Essere farmacisti significa far parte di una comunità. E se la nostra luce resta accesa anche di notte, è per ricordarti che siamo sempre al tuo fianco. Farmacia Carino, con te, dal 1917. Sono entrati nel vivo gli appuntamenti natalizi che vedono protagonista l'Associazione Nova Sociale di Nocera Superiore. Sono partite infatti nei giorni scorsi, nell'ambito del progetto Vivere Insieme, le iscrizioni al 32esimo concorso Il Presepe Più Bello e la vetrina natalizia. Nella Nova Sociale siamo un'associazione che sul territorio lavoriamo da 32 anni e quindi portiamo avanti il recupero delle tradizioni, in modo particolare eventi culturali. Per Natale abbiamo Il Presepe Più Bello e la vetrina di Natale che sono delle iniziative che coinvolgono non solo le famiglie ma le scuole. Le famiglie perché l'obiettivo nostro è quello di riunire intorno al Presepe la famiglia, la famiglia che è il nucleo importante della società. Perché intorno al Presepe lavorano tutti, la mamma, il papà, tutti i nonni in modo particolare, che aiutano i bambini alla realizzazione di quest'opera, che sono tutte diverse l'una dall'altra. Allora questa iniziativa partecipa non solo la regione Campania, ma ci vengono anche dei presepi da Milano, da Torino, da varie città d'Italia, perché è a livello nazionale. La scheda di partecipazione al concorso è disponibile al sito www.novasociale.com. Per il 6 gennaio alle ore 16 è fissata inoltre la quindicesima edizione dell'evento La Befana dei Nonni, che si svolgerà presso la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli di Nocera Superiore. Un'altra iniziativa è La Befana dei Nonni per i nonni. Cioè anche questo, il nostro obiettivo è quello di cercare di sensibilizzare i ragazzi al rapporto importante che ci deve essere tra i nonni e i nipoti. E quindi noi regaliamo la calza ai nonni, però la regala il bambino che farà, diciamo, un commento che dirà il perché lui vuole regalare la calza dal nonno alla nonna per sottolineare il rapporto che ci deve essere tra il nipote e i nonni.